Bureau of Meteorology Australiano, Bohm dichiara ufficialmente l'evento meteorologico di El Nino, come dichiarato a El Nino e di Polo Positivo dell'Oceano Indiano. Quando si verificano uno iode positivo ed El Nino, il loro effetto di asciugatura è in genere più forte e più diffuso in tutta l'Australia, e l'estate di calore grave previsto. Putin no well well, la Nato non rappresenta una minaccia per la sicurezza per la Russia, commenta il Consiglio Atlantico l'Erdogan della Turchia dice, si fida della Russia tanto quanto mi fido dell'Occidente. Elon Musk ha negato il rapporto di Wall Street Journal su, Tesla, Arabia Saudita nei primi colloqui per Evo Factory, in un tweet, sulla sua piattaforma 10 i vantaggi di Elon Musk a Tesla, indagati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Riferiscono. In Irlanda, l'automobilista fallisce nel tentativo di evitare le cariche di pedaggio M50 citando Magna Carte Bernier del 1216 in Francia. 8 conducenti su 10 sono soli nella loro auto, al mattino, Irish Rail per provare la prima locomotiva dell'Europa, per combustione di idrogeno anziché diesel Ressler Sproul, sul treno proiettile pieno in Giappone. Di Irranianko Uduri afferma che socialista e secolare rimosso da nuove copie della Costituzione. Il ministro della legge dice era così il leader del congresso ucciso morto nel Puneab. Il terrorista di Kalistani si assume la responsabilità. In Germania le associazioni di costruzione si aspettano fino a un milione di appartamenti mancanti. Entro il 2025 lo sviluppatore cinese Sunac cerca la protezione del capitolo 15 nella corte di New York, a seguito di Evergrande. Nella regione tedesca del Mecklenburg-Vorpommern, il partito di estrema destra AFD supera SPD, e diventa la forza politica più forte la Germania Vieta Ammerskens, il gruppo neonazista con collegamenti con gli Stati Uniti e conduce incursioni in 10 stati tedeschi. Più di 1 su 10 in Germania mangia vegetariano o vegano 1 su 5 bambini americani e obesi La grandinata della Spagna distrugge quasi 43 milioni di dollari di colture, poiché colpisce quasi il 100% di alcuni raccolti di agricoltori. La Francia non darà il benvenuto ai migranti di Alampedusa, annuncia il ministro degli interni francese Gerald Darmanin la Sardegna in Italia, ospiterà centinaia di pastori, dal Kyrgyzstan. L'ex ministro degli esteri della Cina Wang Yi è estromesso, dopo presunti affari, hanno detto alti funzionari afferma il leader tunisino, l'influenza sionista evidente nella denominazione di Storm Daniel, XFL, USFL che si dirige verso l'accordo di fusione, per rapporti ABC andrà in onda altri 10 partite di calcio lunedì sera a causa di scrittori e attori scioperi. Shoei Otani ha un intervento chirurgico al gomito, prevede di colpire nel 2024, pitch nel 2025. Nick Kub di Cleveland Browns ha un infortunio al ginocchio significativo. Stagione probabilmente finita. Prezzi del gas europei diminuiscono a causa di elevate offerte e bassa domanda. La Polonia propone il divieto di diamanti russi. GPL nel pacchetto di nuove sanzioni. La Russia considera il divieto di esportazione di carburante temporanea a causa dello scricchiolio domestico. Per tasse rapporto, Disney, sfidato o altrove, prevede di spendere 60 miliardi di dollari in parchi e crociere, quasi raddoppiando la spesa in parchi, esperienze e prodotti per un periodo di 10 anni. Canada firma un accordo da 3 miliardi di dollari, per finanziare l'energia nucleare in Romania. Il capo delle Nazioni Unite assiste la guerra della Russia in Ucraina per scatenare Nexus of Horror I soldati russi dicono di sognare di conquistare le città ucraine e di aver spostato le loro famiglie lì in ossessionamento del reclutamento. Azerbaijan chiuso unilateralmente lo spazio aereo armeno all'inizio della guerra a terra. Quando l'Azerbaijan lancia le operazioni antiterrorista in Karabakh Israele svela il nuovo supertent Barak DDF alimentato dall'intelligenza artificiale. Trudeau afferma che il Canada vuole risposte dall'India rispetto al leader sic ucciso. Secondo quanto riferito, il Canada, gli Stati Uniti hanno lavorato a stretto contatto con il possibile link dell'India con l'uccisione di Ardeb Singh Niyar. Gli Stati Uniti afferma il sostegno al Canada in mezzo allo scontro con l'India sulla morte dell'attivista Sikh. Il congresso dell'India sostiene lo stand government dopo le accuse del Canada contro l'India esercizio alto grado di cautela mentre viaggia in India. Afferma il recente consulenza in Canada e minaccia di attacchi terroristici. In Spagna, dozzine di ragazze stanno segnalando foto di nudo generate dall'IA che sono state diffuse a scuola. Il mio cuore ha saltato un ritmo gli hacker che hanno violato i giganti del casino MGM. Caesars ha anche colpito altre tre aziende. Dice Okta. Rudy Giuliani ha citato in giudizio dall'ex avvocato di lunga data, accusato di non aver pagato 1,36 milioni di dollari in fatture legali. Causa è intentata in Minnesota, per l'avvio di Trump dal 2024. Voto Giappone per iniziare il vaccino Covid-19 mirato a XBB subvarianti. Il team di studio scopre i marcatori che possono prevedere, come i bambini tollereranno la medicina addolcita. Più della metà degli americani prevede di ricevere un tiro Covid-19 aggiornato. Sottiene il supporto degli stati nel caso di assistenza per l'aborto di emergenza dell'AIDA. BT conferma che sta disattivando 3G nel Regno Unito. Da gennaio 2024 in Canada, Union e Ford raggiungono un accordo provvisorio, evitando lo sciopero. Kipmaker Marvel converse claims chips backdoor ed cavium per gli Stati Uniti, che era stato indirizzato in Snowden Files il Regno Unito approva una grande fattura di sicurezza online, che era stata speculata come una miniera della privacy, della sicurezza e della libertà di tutti gli utenti di Internet. Elon Musk afferma che X addibiterà agli utenti un piccolo pagamento mensile, per utilizzare il suo servizio il supporto a lungo termine per il kernel Linux deve essere tagliato, poiché la manutenzione rimane sotto sforzo. In un primo, l'RNA viene recuperato dalla Tigre della Tasmania e Stintelbutan annuncia un traguardo con un aumento del 39,5% dei numeri dei leopardi della neve. I ricercatori del College of Medicine scoprono deficit di apprendimento e memoria, dopo l'ingestione di aspartame l'inno atletico medico Unisa del Brasile, che parla di difettare nella vagina e di fare mordere, è scusa per stupro, afferma Expert. I piani di Xbox sono trappelati nelle email rese pubbliche sul caso FTC di Microsoft, come la nuova console Xbox X, il controller, i prossimi giochi Bethesda. La Xbox di prossima generazione potrebbe essere una console cloud ibrida, poiché l'aggiornamento della serie XS è in arrivo nel 2024. Microsoft ha cercato di acquisire Nintendo ad un certo punto, mentre il futuro di Mario Maker esiste dal suo hardware. Microsoft ha pianificato di integrare gli annunci in PC e giochi per dispositivi mobili, a seguito di Activision Buyout. Ecuador riferisce tre uccelli morti dall'influenza aviari a Galapagos. L'Australia abbandona gli sforzi per sradicare il parassita delle api da miele mortale, dopo 15 mesi. Le inadempienze del debito aziendale degli Stati Uniti aumentano il 176%, poiché la guerra all'inflazione della Fed spinge più società in disagio finanziario. I fondi privati si preparano a spendere miliardi per la conformità. Dopo la regola della SEC, Bard, assistente di ID Google ora può leggere le tue e-mail, i viaggi in piano, le risposte a doppio controllo, poiché ora può connettersi alle api ai servizi di Google. Project Gutenberg rilascia 5.000 audiolibri gratuiti, utilizzando la tecnologia del testo a discorso neurale. Ford rivela plugin Hybrid Ranger WT-Guan 2024 in Europa spaccati dal modello statunitense. Fevo offre 62 miglia elettriche e il tentativo di Porsche di Marchi e V-Sound in Europa respinto Volvo alla fine della produzione diesel all'inizio del 2024. Marilyn Manson ha multato per il naso soffiato, sul camera da concerto in Italia, per le licenze motociclistiche della licenza A1, 50 cm³ per i 16enne e 125 cm³ per i 19 anni o la licenza A2, 500 cm³ per 19 anni. Non c'è più esame pratico in programma. Berzraido Crispy Creme Donut Venche effettua consegne sulla base militare dell'Alaska. Donna nomina il figlio neonato regole di metanfetamina, spingendo la risposta del governo. FTX fa causa ai genitori di Sambank Manfred, mira a recuperare alcuni dei 26 milioni di dollari in regali e proprietà, poiché ai genitori di SBF è stata data una casa da 16,4 milioni di dollari pagate interamente da FTX. Dice la causa Università di Stanford per restituire donazioni FTX per un valore di 5,5 milioni di dollari. YouTube sospende il marchio Russell dal reddito pubblicitario. BBC rimuove i contenuti del marchio Russell per scendere al di sotto delle aspettative pubbliche. Channel 4 rimuove il contenuto del marchio Russell tra accuse di Aggressione sessuale Netflix ordina il sequel di Troll, il franchise di azione Norwegian Norwegian action-adventure del regista De Waivro Routaufghi in Italia. I calcs di Emilia-Romagna sono dichiarati eredità dell'UNESCO, iPhone 15 che superano le aspettative di vendita in Cina. Con molti rivenditori che si esauriscono in pochi minuti il fornitore di servizi di riparazione del telefono ITXT ha registrato un punteggio di riparabilità 4 su 10 per il nuovo iPhone 15 e ha commentato Stiamo lasciando cadere retroattivamente il punteggio di riparabilità dell'iPhone. Il prossimo grande aggiornamento di Apple Silicon potrebbe arrivare nel 2026 Il substrato di vetro Intel promette transistor 1T entro il 2030 Germania riceverà 4 miliardi di euro dal programma UE per semiconduttori Varda Space rega ritenzione di fabbrica droga orbitale Air Force in attesa e luce verde FA poiché la fabbrica di spazio ha negato il rientro sulla Terra in Francia, per il bilancio del 2024 Il governo rinuncia ad aumentare la tassa sui biglietti aerei Starmer ha avvertito che non può rinegoziare l'accordo sulla Brexit, senza ricongiungersi al mercato unico dell'UE Pianifica per l'Uner Circle progettato per tentare il lavoro nel Regno Unito All'Assad della Siria per visitare la Cina, all'invito di Xi All'Assad della Siria per la Cina, all'invito di Romano